Sono stato al verano, sa? Per il padre di un mio amico, più che amico è un collega, è con mio compagno di stanza e in ufficio. Mi sono sentito in dovere e ci sono andato. Non è mica tanto triste, non è che sia un posto allegro, però c'è una calma, un silenzio, è tutto così tranquillo. E lo sai perché? Perché lì non c'è il tempo. Che dal tempo non dipendono solamente la fretta, la calma o l'attesa, no? Dal tempo dipende tutto, anche la bontà, la cattiveria, la felicità, la tristezza, la speranza. Non tocchi. Che tutte queste cose, se non le metti nel tempo, non esistono, no? Gli devi dare per forza una scadenza. Senza il tempo non c'è niente, non c'è vita, non c'è rimpianto. È per questo che lì è così tranquillo. Lo sa che i morti parlano tra di loro? Davvero, sa? Mica di concetti chissà quanto alti, no, no, parlano proprio così come... come noi, del più e del meno, proprio come lei, come me. Forse più come me che come lei. Non ci crede, eh? Io lo assicuro, lo senti Dio con le mie orecchie. Noi chiacchieriamo per ammazzare il tempo e loro... loro chiacchierano per ammazzare la mancanza di tempo. Che fa stasera? No, eh? Scendo qui, faccio due passi. Tanto tempo. Tanto tempo.